Ragazzi, quando vedrete questo video, probabilmente noi saremo già in partenza, credo, verso il Dreamhack e incontreremo Mongral dal vivo. Ricky soprattutto incontrerà Mongral. Vi dico questo perché? Perché se arriviamo a 10.000 mi piace in questo video, e ragazzoli, 10.000 sono tantissimi, è un sacco che noi li facciamo, quindi vi chiedo, siete qui per la prima volta? Se non avete mai lasciato like al mio video, non c'è nessun problema. Provate a fare lo sforzo di lasciarlo in questo perché a 10.000 mi piace, direttamente al Dreamhack in Svezia andremo noi, e ci sarà anche Mongral. Chiederemo a Mongral direttamente se vorrà fare un 1v1 finito il torneo in Svezia contro Ricky. Perché questa cosa è perché molto spesso si pizzicano e si ballano addosso quando si killano nei tornei perché si conoscono a livello di Fortnite ovviamente. Quindi si incontreranno dal vivo e potremo proporre questa cosa facendolo in live e poi registrandolo. 10.000 mi piace, è una bella sfida secondo me perché finalmente riusciremo appunto a incontrare Mongral e a poterci parlare a propogli questa cosa. Se si rifiuterà, bot, no scherzo, comunque non penso si rifiuterà alla fine, è una cosa amichevole. Inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale se siete magari nuovi o controllate se non vi abbiatevi iscritto e per finire inserite Piazza Provini nello shop di Fortnite ragazzuoli. Perché? Perché il 20 gennaio estrarremo tre persone che hanno inserito Piazza Provini nello shop di Fortnite, basta solo inserirlo e mi avranno taggato su Instagram, andreapiaz-basso, trovate tutto qui sotto. Ragazzuoli taggatemi perché il primo estratto vincerà un setup completo, quindi un PC, un monitor a 144Hz, una poltrona come questa, mouse, tastiera e cuffie e tutto quello che vi serve per riuscire a competere. Il secondo invece vincerà mouse e tastiera e cuffie, ovviamente dipende. Oh scusatemi, il secondo vincerà un monitor, perdonatemi, 144Hz, mentre il terzo vincerà il mouse, tastiera e cuffie o pad e cuffie, dipende se giocate da pad. Scusatemi l'intro lunga, lo so come lo scriverete nei commenti, ma è un contest per far vincere a voi qualcosa di gratis, quindi se avete skipato, ammine ci piace per voi. Buona visione. Ehi, pregali, spacchiamo. Ma perché mi dà il mattone? No, si stanno arrando, si stanno arrando, si stanno arrando. Sto nade, quando nade ho vedo? Siete fermo! Arriva, non lo vedo. Questo tipo, era tipo là, era tipo là. Eccolo, ora è a sinistra. Eh, questo, questo. Bravo. Se era fermo, ero arrivato, vabbè. Si stanno spaccando, mamma mia, se si stanno... No, no, nade là, nade là, poi te glielo faccio, glielo faccio, aspetta. Eh, mi vediamo più anche quello sotto! Oh, no, no, no! Oh, nade! Itato, itati due, itati due! Nostro nade, nostro nade! L'entere è il punto! Qua, questo è il punto, questo è il punto. Mi ho itati altri due, raga. Uno è più sopra, uno è più sopra, uno è più sopra. Salgo, salgo. Siamo fuori sempre di 50 secondi. Kill the wolfies? Sanno qua dietro, lo stanno fettando. 30 blu, 30 blu! Morto Benji. Spam, uno è qua sotto di noi, Ricky, uno è sotto di noi, occhio! Tre cazzo sono, tre bombe da tirare, raga! Dai, uno verso l'opera, fai su, vieni negrado, vieni negrado! Ah, questo è 80, 180, bravo, 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 mamma mia. Tutti morti. Manca uno, manca uno, no, 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 no. Manca uno che è qua sotto, è solo. Dovebbe essere qua sotto di noi, ho fatto quello sentito. Qua c'è un botto di roba. Qua, 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 c'è un mantello, c'è un mantello che esce, qua, qua. Preso, preso! È sopra. È sopra Nike, 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 Nike. Ah, è proprio Nike. Lo vedo. Ma ha distrutto i 56, io parlo. 56, mi sono scendi sotto. Sì, sono sotto, io non so. Mi sono scendi sotto. Mi sono scendi sotto. Mi ha pusciato a me, mi ha pusciato a me, mi ha distrutto. Che cazzo è? Ma questo è uno bello OP, eh? E' qua. E' da me, è da me, è qua sopra. No, è qua sopra, è qua. E' qua, è qua. E' questo qua, chi cazzo è? Un altro tipo? Oh, cazzo. 39, non è uscito questo? Morto? Ma chi è? Ma chi è? Un anonimo. Sì, sì, e dai, 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 dai. Bianco, 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 bianco. Oh, it's Mongral. Era Mongral. Erano Mongral e Wolfeats. Era Mongral. Ma era fortissimo, regà. Presso io, presso io. Presso io dopo te lo do, prendi qualcos'altro. Mamma mia. È un mostro. Anch'io ce l'ho spara bene, what? Eh, allora non va bene questa cosa, lascio due flopper prima a terra. Mamma mia. Eh, me li so fatti perché stavo morrendo da Wolfeats. Ah, ok, ok, va bene. Vabbè, avete Silona? Cilini, Siloni. Qua si può pescare. Ma è un alieno Mongral, cazzo. C'è uno se ne aspetta, ovvio. Oh, holy shit, bro. Gatti, una calmata. Pesco qua io, pesco qua io. Io ho paura se qualche sinistro di Wolfeats mi chiede a pull short. No, diciamo, abbiamo una safe funk, GG. Erano Mongral e Wolfeats che è arrivato secondo dalla World Cup, tra l'altro. Ragazzi, sento tisati a dire. Bravi, regà, bravi. Un file di Cristo, sette punti di kill. Ma che c'è l'hai, poi ti? Sei. Eh, fai danno solo i nostri. Vabbè. Ah, zi, tutta zitta, tutta zitta, dai. Chiamina zitta, ammela vita. C'è l'altro mini, c'è l'altro mini. Eh, sei razzi, sei razzi. L'hai preso zitta. Tieni, tieni, tieni. Io sono senza, senza cure. Eh, non ne abbiamo, solo lo spara bene. Ok, ok, no, però, no, no, no. Zitta, dov'è? Bravi. E che start. Lo più che altro è le kill pesanti, più che altro. Non è tanto le kill. Un che erano poco forti, raga, si vedeva che erano forti. Il porco 2 si vedeva che erano forti. Eh, sì, sì. Mongral ha cagato il cazzo fino all'ultimo. L'ho spaccato, raga. Gigi. Gigi li abbiamo distrutti. Qua c'è una macchina, zitta. Siamo tutti full, pure tu, Gigi. Siamo tutti full, io sono full full materiali. Ragazzi qua, guardate, saliamo là sopra. Però, però, sentite una cecchione, non è che è arrivata là sopra. Occhio, c'è spuglio. Occhio, c'è spuglio. Sì, mi sa di sì, sai. Eh, vediamo come gioca. Ci stanno fedendo qua davanti a me. Non stanno fedendo, stanno scappando perché gli sparano. Sì, stanno scappando. Sì, stanno scappando. Quanto c'è il problema? Sì, stanno scappando. Guardate il cielo! Ah! No way, troppo tardi. Ah, beh, quelli devono ruotare. Dietro di quelli è easy, in teoria. La sinistra, la sinistra, la sinistra. Quelli là, il nord, stanno andando via. Quelli là, il nord, stanno andando via. Andiamo, andiamo, andiamo. Siamo, andiamo, andiamo. Fatti ripillare. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo sopra a questi qua, le scole, ragazzi. Andiamo, andiamo, andiamo. Mettigli la scala in faccia a questi. Così. Dai. Ciò quante persone, ragazzo, alfisti. Quelli sono inizia a far like, quelli, eh? Meno male, che sono forte. Mi tiro la l'azzata, mi tiro la l'azzata, no, tranquilli. Eh, porcozzi. Ah, che è il da dietro. Grazie, franci! Grazie a te 100 bits, bro. Mini, mi tieni. Mini, ok? Coprimi dietro, un attimo. Stanno arrivando dietro di noi, stanno arrivando dietro di noi. Proprio, stanno... Fagli mettere sopra, a sti cazzi. Fagli passare. Sì, sì, sì. Andiamo, andiamo. No, no, no. Cioè, è bloccato, faù il te. Riccardo, dietro! Venite, 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 dove sto io? Dove sto io? Raga, andiamo, 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 ragazzi. Mi hanno distrutto, mi hanno distrutto, mi avete bloccato sotto. Venite qua, sono morto, sono morto. No, 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 no. Ti spavo io, mi spavo io, tranquillo. Vieni qua, Ricky, mi si resta da dietro. Ok. Butta di sotto, vieni. Perfetto. Perfetto. Mini, dagli il mini a Ricky. Ma sta ragione, dove ha ragione? Chi lo ha lanciato? Non c'è il Tati, non c'è il Tati. No, l'ha spaccato tutto con la raggiata. Lancia l'anzitore, eh? Ma sta, ma che cosa? Ancora c'è il bug? I mini a Ricky. Non è che Mongrel conosce Ricky, Mongrel conosce la tag STR. Magari è per quello, eh? Ma questo è nostro, ma infatti. Anche perché ha giocato molto con Josh. Ma c'è un sonno? Vabbè, tu ti raspettate la mia giornata. Grazie a Josh e Jinja. Tantissimi pro player conoscono STR. Sì, eh. Non so. Perfetto, vale. Ah! Noi, fai fai. Le scole, le scole, le scole. Fermi, fermi. Fermi. Però Ricky ha poca vita. Vabbè, giù, giù, giù. Ti fullo Ricky. Tieni un po' di ferro. Fate buildare, fate buildare. Fate buildare. Kevin davanti e Ricky davanti. Now. Eh, Kevin quanto hai tu? Io ho 40, 270. 250, 200, 500. Qua, 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 qua. Eh, Kevin vai tu e io ti sostituisco perché ho meno hita. Quindi vai tu. Ok. Dobbiamo stare proprio a posto con la seconda. È il punto giallo, eh, raga. Uno dentro l'acqua. Easy kill. No, no, ruota, ruota, ruota. Io devo vencerlo tanto. Attenti, attenti. Ruota, ruota, ruota. Falle. Vieni, vieni, vieni. Chi di dietro? Ragazzi siete? Sì, sì, ci siamo. Devi salire un piano. Dobbiamo salire? Sì, sì, bravo, bravo. Bello presto, bello presto, bello presto. Deve, devi darmi i cambi, devi darmi. Oh, mi hanno spaccato, mi hanno spaccato. Vado avanti, vado avanti, vado avanti. Vado avanti io, vado avanti io. Venite, venite, venite. Com'è il nostro. Salvi, è il nostro. Sono io a destra, sono in piano a destra. Sono in piano a destra, sono in piano a destra. Dove sono io? Dove sono io? Sì, ragà, non si è capito cos'è successo. Lanca troppo, lanca troppo. Foite, vieni da me, foite. Bravo. No, non è il nostro. No, non è il nostro. Ragazzi, vieni da me. Tretta bianco. Vieni da me, tretta, 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 tretta. Vieni qua, vieni qua, foite, seguimi, foite, seguimi. Sì, saltate, 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 saltate. Vieni, matto, matto. Vieni, matto, matto. Deve andare, vieni, matto. St'arriva, foite, se arriva, foite, fa full materiali. Devi notare, foite. Fai sotto, fai sotto, fai sotto. No, so' morto. No, so' morto. A500, a500 di mattone, foite. Sono niente. Sono sotto di lui. Riccardo. Non scendere, non scendere, non scendere Builda, builda Builda, builda Sei bloccato dall'albero Stai bloccato dall'albero Spacca, spacca tutto Spacca, spacca La scilla, bro Spare bende? Non ce l'ho, non ce l'ho Builda, 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 builda La capanna sotto, poiché Builda, builda, builda Non lo sento, attento ora Dietro, dietro, lo sento È 400 materiali, leggo Ok, è qua tutto tuo, qua tutto tuo Zitti, zitti, fatelo giovare, fate solo confusore La spara bende, zio, la spara bende Tranquillo, capito Sesto, vabbè, bravissimo 15 Che palle sto gioco quando non build Ogni volta con 1.000 materiali sono morto Con 1.000 materiali perché sono cauto di 3 Ma non hai capito, non hai capito